Ecco il mazzo green, un mazzo di carte formato poker, composto da 52 carte tutte diverse e arricchito da 3 carte speciali. La prima è una carta che vi permette di fare alcuni effetti tra i quali mostrare il mazzo totalmente bianco oppure fa sparire la faccia di una carta in questo modo. Quest'altra carta speciale vi permette di fare effetti come prendere l'asso di cuori, appoggiarlo sul tavolo e frantumarlo tutto. L'ultima carta speciale praticamente è la classica trova la donna. Lo spettatore dovrà trovare la carta rossa tra le altre carte nere usando una clip. Immaginatevi fare delle piccole scommesse come quella di giocarvi un caffè. Ebbene lo spettatore non la troverà mai e vincete sempre il caffè.